Noi abbiamo adesso fatto la festa del santuario domenica scorsa, adesso vogliamo procedere anche a rinnovare l'incoronazione dell'immagine della Madonna. La gente ha offerto circa mezzo chilo d'oro e da questo oro abbiamo affidato a un artista, ci viene fatta una corona sia per il bambino che per la Madonna e sabato sera alle ore 21 avremo una messa celebrata dall'arcivescovo di Loreto. Perché l'artista si è ispirato alla corona che sta sul capo della Madonna di Loreto. La Madonna non ha bisogno di corone, ma ecco abbiamo bisogno noi di incoronarla per manifestargli il nostro affetto e la nostra devozione. E poi anche perché quest'anno Monsignor Tonucci compie 25 anni di episcopato. E allora essendo stato qui a Marotta noi vogliamo anche approfittare di questa circostanza per festeggiarlo e per fargli i nostri auguri. Grazie. Grazie.